Riccione ha ricordato un grande musicista, il clarinettista Gaspar Tirincanti, scomparso prematuramente nel 2014. Lo ha fatto attraverso un memoria a lui dedicato giunto alla seconda edizione grazie anche alla collaborazione della Rimini Big Band. L'evento è stato promosso su iniziativa della famiglia con il patrocinio del comune di Riccione. L'obiettivo spiegano è quello di tenere vivo il ricordo di un grande artista. Infatti Gaspar Tirincanti ha avuto una brillante carriera che lo ha portato a ricoprire ruoli nelle maggiori orchestre italiane come quella di Santa Cecilia di Roma, Teatro alla Scala di Milano. È stato anche protagonista di importanti rassegne cameristiche, ha speso il suo talento versatili in tutti i generi musicali, compreso il jazz. Non vogliamo perdere l'abitudine perché Riccione è stata sempre piena di fermenti musicali. Gaspar è stato un grande della musica, ha lasciato un grande segno anche nella città e quindi vorremmo che queste emozioni continuino a esserci nella nostra città. Stiamo lavorando una fondazione per fare in modo che le emozioni musicali che la nostra città ha sempre avuto possono continuare e crescere. Non ci siamo. Chi ci sono di Riccione che ci vogliono aiutare a far crescere la musica nella nostra città non ci siamo. Una serata bellissima. Veramente siamo contenti perché i riccionesi hanno risposto con una generosità che va anche oltre le nostre aspettative. Gaspar è stato una persona che ha molto amato Riccione. Tutte le volte che andava via si ricordava non vedo l'ora di ritornare a Riccione. Quindi penso che la sua città gli debba questo tributo e questo ricordo. La serata è venuta benissimo, sono molto contenta. C'era un clima molto gioioso e molto partecipato.